Forti disagi in tutto il Cilento, da 48 ore a causa del maltempo, sono stati registrati danni lungo tutto il territorio cilentano, da nord a sud, e i problemi riscontrati sono importanti, tanto da far pensare di richiedere lo stato di calamità naturale. I danni sono stati causati in primo luogo dalle fortissime piogge abbattutesi sul Cilento ed in seguito da varie esondazioni, in aggiunta al vento e dall'alta marea, le frane registrate sono state varie, a partire da Primiano Cilento, dove è franato un muro adiacente alla carreggiata della strada statale 18, frana che ha causato la chiusura della strada. A Torchiara invece si è verificato l'allagamento del sottopasso ferroviario, gravi disagi anche sulla Mingardina chiusa dalle 21 per via del mare, e soprattutto lungo il tratto fra Poderia e Palinuro, dove sono caduti degli alberi che hanno bloccato il traffico. Segnalata inoltre sulla spiaggia del porto di Palinuro, la carcassa di una tartaruga caretta caretta portata a riva, probabilmente dalle mareggiate di questi ultimi giorni, esondati anche gran parte dei corsi d'acqua cilentani, come il Sele, il Lambro ed il Mingardo, a Centola, il Calore ad Altavilla a Silentina, ad Alfano e Rofrano tenuti sotto osservazione il Faraone, danni anche a Vibonati, il mare invece ha causato disagi in tutti i paesi costieri del Cilento, con onde alte che sono arrivate in strada a Santa Maria, a Scea, a Casalvelino, San Marco di Castellabate ed Agropoli. Grandi criticità riscontrate proprio nella città di Agropoli a partire dalla provinciale per raggiungere Trentova, dove si è verificata una frana. Onde altissime sempre nella baia di Trentova e dal porto turistico, che hanno superato addirittura la barriera che divide la scogliera dalla banchina. Inoltre il livello del testene si è alzato di molto. Nella serata di ieri è crollato un albero in piazza della Repubblica per via del vento, che ha creato non poche difficoltà al gruppo comunale della protezione civile di Agropoli per la sua rimozione. In località San Marco il vento ha danneggiato il tetto di un palazzo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, mentre in località Cagnetiello si è allagata una strada che ha causato non pochi disagi ai residenti e agli automobilisti. In generale si sono riscontrate criticità in tutta la città, dove è stata sempre presente comunque la protezione civile di Agropoli e la polizia municipale. Il Cilento, insomma, nella morsa del maltempo, ora fa la conta dei danni.